La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Basta con la retorica della legge che è uguale per tutti e quindi il tennista Djokovic avrebbe sbagliato. Basta, basta, veramente basta. Quanta ipocrisia in queste parole, quanta inutile retorica. Anche il fascismo, il nazismo, il comunismo sono nati per norma di legge. Quelle razziali erano leggi, non erano di PCM. Poi qualcuno si è opposto, le ha infrante. I governanti sono stati costretti ad inasprire il loro lato autoritario per reprimere. Quelle opposizioni ed i regimi sono crollati. Djokovic si è opposto ad una legge liberticida che può crollare solo a fronte di opposizione ad essa. Con la vostra mentalità, con il vostro conformismo, e mi rivolgo a chi sta accusando Djokovic di aver infranto la legge, ci saremmo dovuti tenere tutti i regimi. Per fortuna, invece, c'è qualcuno che dice se quella legge ingiusta vale per tutti, non deve per forza valere per me. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.